La casa dei sette ponti di Mauro Corona come vedete ho messo bene in evidenza il fatto che questo romanzo è lungo solamente 63 pagine si tratta praticamente di un racconto lungo o un romanzo corto se volete, se preferite non mi è mai successo di fare una recensione di un testo così breve è evidente che ancora di più in questo caso non vale la pena di assumere o di fare spoiler di questo libro ma vale la pena semmai di spiegare le motivazioni per cui potrebbe essere interessante da proporre in una scuola sappiamo quanto sia eccentrico e controverso il personaggio di Mauro Corona tuttavia noi amiamo molto la montagna noi amiamo molto, come dire, certi valori ecco, che possono essere ripresi anche leggendo libri come questo di Mauro Corona l'abbiamo già dimostrato con la nostra prima recensione dell'ombra del bastone di Mauro Corona già presente in rete e lo dimostreremo con altre, con le prossime insomma, recensioni dei libri di Mauro Corona se prendiamo il libro appunto della casa dei sette ponti che vi consiglio comunque anche tranquillamente o di ascoltare come audiolibro una lettura breve o di leggere come ebook ecco, sulla quarta di copertina vediamo degli spunti che semplicemente riprendiamo no? Bentornato tra i vivi, amico è una frase, anche questa non posso spiegarvi bene perché la si dica questo riguarda un po' appunto l'ultima parte del racconto però, insomma ci sono certe cose che ci costringono un po' a rivedere la nostra vita e magari anche a gettare una luce sulla nostra vita finalmente magari anche certe cose molto forti che ci possono capitare Mauro Corona scrive una piccola grande storia che suona come un apologo ed è un apologo quindi vuol dire praticamente una storiella ecco, dicevamo appunto un testo molto breve allegoria della condizione della condizione umana quando perde di vista la semplicità dei valori cardine ecco questo, dicevamo è una cosa importante cercare di recuperare in questa epoca tra l'altro in cui rischiamo veramente di perdere tempo dietro a delle fesserie o a del come dire appunto dei perdi tempo potrei chiamarli così cioè delle attività che ci fanno smarrire il senso e il valore dei rapporti umani ad esempio vale la pena invece di recuperare queste cose un po' primigenie originarie ancestrali questa volta perché sappiamo bene che Mauro Corona insomma è di di origine appunto veneta la zona vicino a Longarone Erto comunque insomma sempre nella zona del Trentino del Veneto quindi le montagne che lui spesso descrive sono le Alpi questa volta invece ci troviamo sull'appennino tosco emiliano la Betone quindi da Pistoia o da Firenze è possibile raggiungere questa bellissima montagna e appunto non lontano dalla Betone c'è una valle stretta e tortuosa in fondo una casa una piccola casa con il tetto coperto di plastica colorata e due comignoli che buttano fumo sempre in estate e in inverno un tetto di plastica colorata sta a indicare l'estrema povertà della gente che ci vive dentro ma il fatto che ci siano questi due comignoli che fumano indica che comunque c'è vita in quella casa c'è qualcuno anche se tante volte non sembra o si nasconde chi vive in quella casa ma c'è è evidente altrimenti come farebbero a fumare quei due quei due comignoli un industriale della seta che tra l'altro è ingaggiato in una sorta di lotta contro la la concorrenza cinese sappiamo ad esempio come Prato o altre zone insomma vicine anche a Firenze primeggiassero in certi campi del tessile fino a poco tempo fa fino a quando ovviamente non è arrivata non è giunta la tremenda concorrenza cinese e molti quindi sono stati fatti fuori ma lui no lui è riuscito a tener testa a questa concorrenza lui comunque torna ai boschi dove un tempo andava a far funghi e vede vede la vede vede quella casa è incuriosito ferma la sua macchina la sua Audi la sua macchina quindi piuttosto lussuosa performante malgrado il fuoco acceso diciamo dei cammini dei comignoli sembra disabitata è incuriosito entra e lì comincia la sua avventura che lo strappa alla mesta quotidianità del danaro del potere per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio che è prova e passaggio alla scoperta di sé ovviamente la metafora del passaggio è ben resa con i sette ponti del titolo insomma di questo libro e che hanno a che vedere con questa sfida che con questa avventura insomma che lui comincia Mauro Corona scrive una piccola grande storia che suona come un apologo allegoria della condizione umana quando perde di vista dicevamo la semplicità dei valori cardine che in questa parte si riprende quello che insomma che c'era scritto sopra cioè come grandi testi di letteratura penso che la la cosa più importante che un uomo possa fare è riscoprire se stesso andare a fondo in quelli che sono i suoi valori i suoi ideali le sue radici che magari sono state nascoste da una vita passata ad accumulare da una vita passata a commerciare o appunto come vi dicevo prima nelle attività ad esempio qua dicevamo di lavoro industriali insomma che hanno fatto un po' perdere però l'umanità a questo industriale della seta di cui io non ricordo che si dica il nome anche questa mancanza del nome può renderci questa vicenda molto personale cioè la possiamo leggere come una nostra storia perché potremmo mettere il nostro nome a questo protagonista termino questa recensione nella quale ho detto volutamente non vi dico ovviamente la trama con una serie di citazioni i ponti gli piacevano gli piacevano uniscono separazioni come una stretta di mano unisce due persone i ponti gli piacevano in una fase della nostra storia in cui sembra che qualcuno voglia innalzare nuovi muri il ponte invece è una bella metafora di unione di apertura i ponti cucciano strappi annullano vuoti avvicinano lontananze e quindi questi mondi ad esempio che sembrano mondi che sembrano così distanti si possono avvicinare grazie ai ponti abbiamo detto si può riscoprire la vera essenza di se stessi viaggiò col cuore in gola accanto a un passeggero insolito l'emozione sconosciuta del ritorno sarebbe questo il passeggero insolito lui viaggia da solo perché è il ritorno dicevamo il ritorno alle nostre origini vedeva i loro volti scolpiti con l'accetta rifiniti appennato tostati dal sole forti di fatica di fatiche segnati da lavori pesanti erano uomini sereni forse anche in pace questa gente che vive in questa casa poveracci abbiamo visto che addirittura hanno dei teloni di plastica per ripararsi dalla pioggia come tetto però sono persone profondamente felici volti scolpiti con l'accetta a me piace sempre pensare ad esempio a questa metafora noi noi moderni siamo un po' quasi angosciati dal fatto che arrivino le rughe in una certa fase della nostra vita e in tutti i modi cerchiamo di ovviare a questo ad esempio con la chirurgia plastica ma non credete che certe volte questa chirurgia plastica renda le persone meno belle di quello che potrebbero essere dei vecchi due vecchi che invece vivono naturalmente insomma la loro vecchiaia e quindi la accettano e quindi li sentiamo non so più vicini a noi più congeniali meno artefatti e quindi anche più belli malgrado tutte le loro rughe questo riguardo le espressioni di loro volti scolpiti con l'accetta poi tostati dal sole forti di fatiche perché il vivere a contatto con la natura ad esempio ti costringe a lavorare a faticare ma questo ripeto ti rende più bello i lavori pesanti questo ti rende più sereno come sappiamo noi che appunto abbiamo visto anche con i romanzi di Paolo Cognetti che assimilo insomma a Mauro Corona quantomeno per la tematica queste persone insomma che vivono con grande semplicità a contatto con la natura tutta quanta la loro vita accontentandosi di poco e lavorando pesantemente il vivere appartato e fiero di qualche anima solitaria che non chiede niente a nessuno questa gente della casa di cui non vi dico niente però sono persone così la dolcezza dei buoni dei vinti degli inermi la dolcezza della malasorte accettata senza reclami gli anni passavano la fortuna si nascondeva e la vecchiaia trovava loro ecco direi che possiamo leggere questa storia anche in questo modo come una domanda su che cosa vuol dire diventare vecchi è così importante che la fortuna si nasconda diciamo che uno magari sia povero che cos'è più importante quando noi ci troveremo diciamo di fronte a un decadimento fisico una cosa più importante sarà questa serenità interiore queste anime solitarie che vivono quindi al di fuori del diciamo del chiasso della città dove magari c'è tanta gente a fianco a te ma magari sei più solo della gente che vive invece così isolata come questi due insomma abitanti di questa casa gli anni passavano la fortuna si nascondeva la vecchiaia trovava loro la vecchiaia trova tutti nel senso che tutti siamo destinati a questo decadimento fisico il problema è come vivremo questa vecchiaia probabilmente la vivremo così come abbiamo vissuto tutto il resto della vita e quindi contenti e sereni di poco se saremo stati capaci nella vita di accontentarci di poco e invece arrabbiati con tutto e con tutti se la nostra vita sarà determinata dal possesso ha una fortuna il nostro protagonista speriamo tutti di avere questa fortuna che certe condizioni certe situazioni della vita lo pongano di fronte a se stesso e facciano riemergere la verità di se stesso la verità profonda di se stesso nascosta di fronte da tante dicevamo sovrastrutture chiamiamole così economiche o problematiche della nostra civiltà industrializzata mentre vale la pena invece di recuperare questi valori questi grossi valori e soprattutto e non vi dico niente recuperare i rapporti recuperare le nostre origini recuperare il valore della famiglia ripeto voglio dirvi di più perché voglio lasciarvi il piacere della scoperta di quello che avviene insomma alla fine di questo romanzo breve o racconto lungo che comunque ho trovato piuttosto coinvolgente consentanio con me con quello che io vorrei recuperare vorrei riprendere come valore importante della vita per la scoperta